Oggi il cura Abruzzo 1 e 2 compie un anno. A un anno appena il 40% delle risorse sono state trasferite, di 200 milioni circa 80, 120 sono ancora al palo. Ancora più grave il dato per le imprese, su 96 milioni di euro le imprese sono arrivate appena il 30%, circa 25 milioni. Ultimi, terzultimi e penultimi sui tre fondi europei, ancora fermi 549 milioni di euro. Questo è il grande inganno di Marsilio e della sua giunta, che un anno fa promisero agli abruzzesi, alla prima ondata, che con un clic avrebbero avuto le risorse e dopo un anno il 70% delle imprese non ha visto nulla. Un'aggiunta sempre più nel caos della programmazione, come ha dimostrato anche il piano per le vaccinazioni, dove c'è un saltafila con uno stravolgimento dei criteri, imprese ferme per quanto riguarda i ristori, beffate da ordinanze restrittive le più lunghe di tutto il Paese e, ancora una volta, litigi interni alla maggioranza. Nonostante abbiamo vissuto un anno e mezzo ormai di pandemie e di conseguenze economiche sulla salute, continuano a litigare solo sulle nomine sulle poltrone. Un Consiglio regionale ormai fermo da quattro mesi perché non c'è nessun tipo di accordo dentro la maggioranza più disastrosa della storia della Regione.